ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ultimamente sentiamo parlare di CRO ovvero crypto.com token in moltissimi video non parlo soltanto dei miei video ma di moltissimi altri creator che fanno di CRO il punto centrale di molti dei loro video non che ci sia niente di male ma vedendo molti commenti di persone che giustamente si affacciano per le prime volte ma al mondo delle criptovalute magari scegliendo proprio CRO come uno dei primi piccoli investimenti vedo che c'è un dubbio molto grande sull'eventuale prezzo che possa raggiungere in futuro questo token questo vuoto chiamamola mancanza è dovuta proprio a noi creator che non affrontiamo mai questo argomento che sia chiaro mi ci metto anche io nel mezzo in questa banda di balordi che magari anche non facendolo apposta diamo per scontato alcuni concetti in questo video infatti voglio andare a riassumere tutti i vari concetti per il quale CRO secondo appunto la mia opinione è un buon investimento ovviamente non è un consiglio finanziario ma il frutto di questo video si concentrerà su che prezzo realisticamente possa raggiungere in futuro il token CRO ovviamente da buon divulgatore cripto lo farò con dati alla mano nessuno ha mai detto che in realtà sono un buon divulgatore cripto vabbè prima di fare le mie analisi ho trovato un articolo secondo il quale CRO nel 2022 potrebbe arrivare a valere 10 dollari prima però ti chiedo come sempre di supportare le mie ricerche lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale sono due piccoli gesti che a te alla fin fine non costano niente ma a me mi aiutano moltissimo con la crescita del canale stesso ottimo adesso passiamo con la visual apc in modo da andare a vedere tutto nel dettaglio come promesso partiamo innanzitutto con leggere insieme questo articolo perché effettivamente ci spiega in modo dettagliato come mai secondo lui CRO ovviamente potrebbe toccare i 10 dollari a token entro il 2022 ok ci dà le motivazioni comunque dopo vedremo se sono d'accordo con lui oppure no faccio innanzitutto traduce in italiano per rendere il tutto un po come dire user friendly ok infatti questo sito mette proprio come articolo principale 10 motivi principali per cui il prezzo di CRO potrebbe raggiungere i 10 dollari entro il 2022 dunque ovviamente qui spiega appunto che è un'applicazione in realtà per un exchange che è in rapida crescita eccetera eccetera spiega che cos'è CRO ma credo che se guardi questo video non avrai bisogno di sapere che cos'è CRO perché già lo sai altrimenti non guarderesti questo video partiamo quindi di conseguenza dal motivo numero uno dato posso vedere che questo stronzo ha messo un botto di ads e rende abbastanza illegibile tutto l'articolo però vediamo di adattarci dunque il primo motivo è appunto l'utilità del token non sto a leggere tutta la descrizione perché già dal titolo vedo che comunque si capisce l'utilità del token appunto che per quanto riguarda la sezione exchange vai a pagare le fee in CRO stesso stesso discorso anche per la Kronos mainnet e quindi di conseguenza un motivo principale per il quale potrebbe comunque incrementare il suo valore durante il tempo potrebbe essere effettivamente l'utilità del token e con questo concordo premi premi ora credo appunto che sia tradotto male da google translate ma credo sia appunto le rewards infatti qui parte appunto di rendimenti fino all'8,5 per cento anno mettendo in staking CRO stesso e per quanto riguarda le stable coin come usdc premi possono arrivare fino al 14 per cento anno sì questo potrebbe effettivamente incidere sul prezzo perché magari le persone appunto potrebbero essere incentivate a mettere in staking sia CRO sia appunto stable coin per arrivare appunto a degli API molto interessanti potrebbe essere in modo indiretto magari gli piace la piattaforma e comprano anche CRO come investimento non è proprio secondo me un motivo principale per il quale influirà attivamente per quanto riguarda l'incremento di prezzo per CRO però comunque ci potrebbe stare per quanto riguarda scambio che comunque dovrebbe essere il corretto translate sarebbe exchange appunto come dicevamo prima per quanto riguarda la sezione per fare trading ci potrebbe stare per quanto riguarda il portafoglio quindi app qui parla che crypto.com è un exchange sicuro un'applicazione sicura per detenere soprattutto i token in realtà è vero è una caratteristica appunto di CRO ma non vedo come possa attivamente influenzare sul prezzo del token CRO quindi sul 4 non sono assolutamente d'accordo il quinto programma di riferimento ma sarà refera al programma appunto quello di proporre alle persone di utilizzare CRO in modo che ci ricompensa in CRO dove ovviamente per quanto riguarda il nuovo utente dovrà registrarsi con KYC di certificato e completare con successo lo staking CRO sullo scambio ecco questo voglio puntualizzarlo questo invece è una cosa che secondo me e comunque anche secondo tutti perché è un dato che secondo il mio punto di vista è completamente giusto perché per usufruire appunto delle loro carte ovvero tipo per esempio la Ruby dobbiamo mettere in stake 350 euro in CRO che appunto terrà bloccato per 180 giorni i CRO all'interno della piattaforma ciò vuol dire che non sono più in circolazione questi CRO ovviamente momentaneamente per quanto riguarda appunto questi token stessi e di conseguenza questo influisce sul prezzo quindi più persone utilizzano i servizi diretti alle carte di CRO più di conseguenza influisce alla disponibilità dei token sul mercato e di conseguenza sul prezzo attivo di CRO qui parla appunto delle carte Visa che è quello che ho detto prima pubblicità di celebrità e offerte sportive che praticamente lo metto sempre nello stesso scaglione perché ovviamente fa sempre parte del discorso marketing che questo ovviamente vedremo una ripercussione futura per quanto riguarda il token CRO perché ovviamente tutta questa campagna di marketing vedremo i risultati secondo me tra qualche anno in modo che avvicineranno sempre più persone al mercato delle criptovalute tramite magari lo Stample Center tramite magari varie collaborazioni per esempio con Los Angeles Lakers con l'UFC per quanto riguarda il mondo del combattimento sportivo eccetera eccetera quindi di conseguenza avendo tutta questa audience la accoglierà all'interno della sua piattaforma exchange o comunque erogando gli servizi e stiamo parlando secondo me di nuova utenza persone che magari non hanno mai avuto modo di investire attivamente per quanto riguarda il mercato delle criptovalute e puntualmente secondo il mio punto di vista lo faranno proprio con Crypto.com questo perché a livello di marketing l'hanno associato a persone di successo come appunto dice anche qui Matt Damon eccetera eccetera vabbè qui ha fatto una traduzione letteralmente di merda comunque sì è per il discorso Stample Center quindi di conseguenza mettiamolo per un discorso di marketing e 10 tutto correlato a basi di utenti in crescita eccetera eccetera la conclusione cosa che non mi è piaciuta è che appunto prevedevano un 10 dollari entro la fine del 2022 ora al momento in cui sto registrando sono le 19.48 fuso orario di Roma domenica 13 febbraio quindi tra qui e fin dell'anno stiamo parlando ancora più di 10 mesi 10 mesi e mezzo quindi sappiamo che ancora può succedere tutto anche se i dati macroeconomici per il medio termine non mi fanno ben sperare una crescita non soltanto di CRO ma di tutto il mercato delle criptovalute però stiamo parlando di 10 dollari 10 dollari che secondo me è un prezzo veramente folle per quanto riguarda CRO almeno ad oggi almeno nel breve periodo e ora infatti voglio andare a fare un paragone con l'exchange di riferimento o meglio l'utility token dell'exchange di riferimento più grosso al mondo dunque a questo punto per fare un paragone per andare a vedere a livello pratico e realistico quanto potrebbe arrivare appunto il token CRO in futuro come target price andiamo appunto su CoinMarketCap può esistere un video che porto su YouTube che non ha un minimo di un minuto su CoinMarketCap assolutamente no a parte tutti gli scherzi noi andiamo a prendere in considerazione il competitor, chiamiamolo così, principale per quanto riguarda la tipologia del token CRO ok? ovvero BNB BNB che è l'utility token il token ufficiale di Binance l'exchange centralizzato per eccellenze più utilizzato al mondo ok? perché ora come ora dobbiamo fare riferimento al capo di quella categoria perché? questo per un semplice motivo per il quale ad oggi con la maturità di mercato che abbiamo adesso ok? abbiamo BNB in testa per quanto riguarda la categoria degli utility token degli exchange centralizzati ok? perché infatti CRO va a lottare in quella categoria lì ok? in questo video andremo ad analizzare ben tre dati per renderci conto e per fare la stessa analisi su CRO ovvero il prezzo odierno e andremo a farlo anche nel momento di picco di novembre scorso per quanto riguarda BNB in modo da fare un paragone ancora più preciso stando ovviamente ai dati che abbiamo riportato oggi in tutto il mercato in tutto lo storico delle criptovalute la capitalizzazione del mercato che è il secondo dato che andremo a considerare nel nostro calcolo e il rifornimento circolante ragazzi non il rifornimento praticamente totale come lo abbiamo qui per XRP ok? che in pratica è il 50% bensì il circolante che culo per nostro calcolo ma non è la stessa cosa su CRO per quanto riguarda BNB il rifornimento circolante è lo stesso del rifornimento totale ok? dunque facciamo questo breve calcolo come si trova il prezzo di un determinato token? io me lo sono scritto molto brevemente qui allora innanzitutto facciamo uno step ancora prima come si trova la market cap ok? per quanto riguarda un determinato token si trova circulating supply per token price ciò vuol dire che dobbiamo andare a moltiplicare la circulating supply quindi la disponibilità che abbiamo sul mercato di un determinato token in questo caso abbiamo 165 piccioli milioni di BNB piccioli si fa per dire prendiamo la nostra calcolatrice andiamo a incollare questo 165 milioni ora non so perché mi ha messo la virgola lì spero sia un errore ma tanto comunque sia vedremo per 397,83 mi è andata via la calcolatrice per 397,84 è alzato di prezzo uguale possiamo trovare una market cap di 65 miliardi di dollari ora infatti lasciate fare appunto perché comunque il prezzo continua a oscillare eccetera eccetera però comunque sia una stima abbastanza precisa devo dire perché sbaglia solo tra virgolette di 100 milioni si appunto si ottiene in questo modo ok perché è importante capire quanta capitalizzazione ha un determinato token perché ovviamente è una stima realistica di quanti soldi ci sono investiti e qual è il valore di mercato su BNB ok dunque prendiamo come esempio appunto 65 miliardi che è appunto la market cap la capitalizzazione realistica che CRO potrebbe avere in questo momento se fosse il numero 1 della categoria ok tenete bene a mente 65 miliardi 65 miliardi comunque me lo tengo qui perché almeno abbiamo già un dato inserito andiamo a prendere alcuni dati di CRO dunque una volta che abbiamo la capitalizzazione che in questo caso abbiamo preso come esempio il top market che è appunto BNB dobbiamo andare a dividerlo per la circulating supply di CRO circulating supply che attualmente è di 25 miliardi 263 milioni ora infatti andiamo a inserire questo dato qui cosa andremo a fare andiamo a fare una ipotetica market cap che è questa quella di BNB come detto per l'ennesima volta diviso 25 2 6 3 0 1 3 6 9 1 uguale avremo avremo un prezzo di 2 59 dollari per quanto riguarda Crypto.com e stiamo parlando comunque di un quasi 1 per 5 praticamente CRO dovrebbe avere una capitalizzazione di mercato 5 volte superiore e infatti torna anche col discorso del mercato infatti se noi facciamo 0,5 per 5 ok ci viene questo dato qui se attualmente fosse il top in questo contesto di mercato CRO avrebbe questo prezzo qui e sinceramente mi sembra una cosa infattibile sia per il 2022 a meno che non si annulli tutte queste notizie macroeconomiche sia appunto per questa situazione di mercato ma andiamo a prendere un altro dato andiamo a prendere il dato ovvero l'all time high di BNB ok perché ora come ben sai segui costantemente il mercato capisci che siamo in una fase non molto bella perché siamo qua giù ok andiamo un attimino a vedere qual è più o meno la market cap più alta raggiunta da BNB e si assesta appunto a 108 miliardi di dollari 108 miliardi di dollari che così a cazzotto si parla di meno di un per due ok se e quando CRO raggiungerà una market cap di 110 billion così a cazzotto possiamo dire che il prezzo unitario di CRO sarà 5 dollari comunque ragazzi stiamo parlando di un per 10 ok un per 10 che deve fare a livello di capitalizzazione il token CRO non considerando cosa che non considera nessuno il fatto che giustamente abbiamo soltanto tra virgolette comunque non è un dato poi così malaccio l'83,48% di CRO in disponibilità sul mercato ok se volessimo fare appunto un conteggio un'analisi ancora più precisa dovremmo prendere praticamente i 30 miliardi di rifornimento massimo perché è quello che poi in futuro più avanti si va più ovviamente il rifornimento circolante per vari motivi che non starò a spiegare in questo video perché sennò durerebbe un'ora e già mi sembra che comunque stiamo dilungando abbastanza dobbiamo appunto andare a prendere il rifornimento massimo che è 30 miliardi di CRO che è quelli che saranno disponibili sul mercato e di conseguenza abbassa di un circa 17% il valore che andrà a assumersi CRO nel tempo dunque in questo video abbiamo visto alcuni livelli di prezzo veritieri che potrebbero raggiungere CRO in futuro considerando una circulating supply stabile a circa 25 miliardi di token e già questa però purtroppo è un'inesattezza e considerando un'ipotetica market cap di 100 miliardi ovvero la market cap di BNB nei suoi momenti più luminosi chiamiamoli così il prezzo del token CRO arriverebbe a circa 5 dollari ci sono da considerare alcuni fattori che potrebbero influenzare in modo positivo nei prossimi anni non soltanto CRO ma tutto il mercato purtroppo questi eventi non sono prevedibili da nessuno ed essendo pura speculazione non li ho inseriti nelle varie analisi appunto per quanto riguarda CRO nello specifico potrebbe essere un eventuale BAN token in modo che la circulating supply di CRO cali drasticamente e di conseguenza a parità di market cap il prezzo di CRO potrebbe salire in modo più rapido un altro evento che sicuramente avverrà è una crescita dell'intero mercato che di conseguenza alzerà gli standard di tutti i vari settori però riuscire a calcolare con esattezza di quanto possa realmente crescere l'intero mercato delle criptovalute e in quanto tempo riesca a farlo è decisamente impossibile c'è chi mostra dei dati e dei valori ma rimangono soltanto delle pure speculazioni ho voluto fare questo video per chiarire un po' la situazione realistica di un eventuale price target di CRO in futuro questo perché sotto i miei video ma anche sotto i video di altri youtuber vedevo persone che magari in buona fede commentavano venderò CRO quando arriverà a 100 dollari oppure altre persone che paragonavano il prezzo di BNB con quello di CRO di conseguenza ho voluto fare un po' di chiarezza su questo argomento so che probabilmente questo video non piacerà a molte persone ma vi ricordo che non sono io che decido i prezzi dei token bensì il mercato e appunto alcune caratteristiche del token stessi di conseguenza vi prego di non rifarvela con me sotto i commenti io non c'entro assolutamente nulla detto ciò spero che questo video possa esserti stato d'aiuto in qualche modo possa appunto averti chiarito un po' le idee se non l'aveste ancora fatto ti chiedo di iscriverti al canale e lasciare un like a questo video per gli iscritti noi ci vediamo nel prossimo video ciao